amici di bici da strada bentornati sul canale oggi concludiamo il test della merida scultura 6.000 con shimano 105 di i2 a 12 velocità di cui vi avevamo brevemente parlato anche in un video short in cui avevamo esaltato soprattutto il suo rapporto qualità prezzo veramente ottimo e vi confermiamo al termine del test questa caratteristica e vi andremo anche a spiegare in maniera più approfondita il perché partiamo con le caratteristiche tecniche del telaio e con l'allestimento questo telaio ha le stesse forme le stesse caratteristiche della versione top di gamma quindi la scultura team quello che cambia sostanzialmente è il carbonio in questo caso troviamo un carbonio cf3 mentre sulla team troviamo il carbonio cf5 qui abbiamo quindi un carbonio leggermente meno pregiato per ottenere le stesse caratteristiche necessario utilizzare un po più di fibra di conseguenza telaio e forcella pesano leggermente di più per il resto le forme sono identiche anche qui abbiamo la possibilità di creare un passaggio cavi semi integrato o integrato in base al tipo di manubrio utilizzato troviamo la chiusura sella a scomparsa fra l'altro con un sistema molto semplice molto funzionale che non dà problemi identiche sono anche le geometrie che sono geometrie di una bici da gara da competizione visto che è la stessa chiaramente nella versione top utilizzata dai professionisti del team bahrain victorius però geometrie neanche troppo estreme quindi le possiamo posizionare un po metà strada nell'ambito di quelle che sono le bici da competizione prima di darvi qualche dato sulle geometrie è doveroso fare una precisazione perché le taglie merida vestono un po più rispetto al solito quindi io ad esempio sono alto un 83 pedalo a 77,5 cm di altezza sella normalmente utilizzo una taglia l nel caso di merida invece utilizzo mi trovo bene con una m che comunque sviluppa fondamentalmente come una 56 quindi se siete interessati all'acquisto ricordatevi di questo dettaglio vi do qualche dato come dicevo in taglia m abbiamo angolo sterzo e angolo piantone 73,5 gradi rich 39,5 stack 55,7 e un carro relativamente corto di 40,8 quindi permettono un'ottima reattività nel complesso geometrie molto ben bilanciate che trasmettono da subito un ottimo feeling in sella allestimento abbiamo detto shimano 105 di i2 12 velocità 50 34 sull'anteriore 11 34 sul posteriore dischi da 160 sia al posteriore che all'anteriore quindi un mix che permette sicurezza e permette anche a chi ha magari un po meno allenamento di poter affrontare anche salite impegnative senza faticare troppo reggi selle in carbonio il resto dei componenti ovviamente su una bici di in questo livello non è di altissima gamma ma l'ubrio attacco sono in alluminio ma comunque con un'ottima ergonomia quindi sono validi i due componenti probabilmente un po più bassi ci sono le ruote in alluminio e i copertoncini continentale gran sport race da 28 mm che sono sicuramente affidabili non sono certo copertoncini nati per la competizione e probabilmente proprio su ruote e gomme eventualmente si potrebbe pensare ad un upgrade per chi vuole migliorare ulteriormente le prestazioni di questa bicicletta il peso in questa configurazione taglia m senza pedale di 8,5 kg che non è basso ma come vi dicevo in relazione al montaggio al prezzo non è affatto male e visto che abbiamo parlato spesso di prezzo vi do subito anche il costo della bici che è di 3690 euro di listino passiamo adesso alle impressioni in cella partendo dai due aspetti che mi hanno sorpreso un po di più soprattutto considerando che è stata una bici da competizione cioè il comfort e la guidabilità in discesa questa merida scultura risulta essere piacevole anche quando si affronta dell'asfalto sconnesso nonostante sia montata di serie con copertoncini camera d'aria quindi non con tubeless che permetterebbe di migliorare ulteriormente il comfort da sin da subito una ottima sensazione di impostazioni in selle quindi facile trovare il feeling con la bici e soprattutto in discesa garantisce sicurezza stabilità guidabilità sin dalle prime uscite e vi posso dire che l'impressione che abbia poco da invidiare a tante bici endurance che come sapete in genere in discesa offrono un po' più di sicurezza e un po' più di affidabilità chiaramente abbiamo detto non è una bici leggera quindi sul ripido in salita quindi quando si vuole fare dei cambi di velocità molto repentini non può andare con una bici top di gamma ma ci mancherebbe altro considerando che costa un terzo se non è solo un quarto dei modelli più costosi tuttavia è una bici come dicevamo molto ben bilanciata e quindi questo peso in eccesso sottosommato non si sente così tanto se non come dicevamo anche nei momenti in cui si vogliono fare proprio delle variazioni di ritmo se si prende un passo regolare anche in salita grazie ai rapporti si riesce a pesare con divertimento con efficienza un po' ovunque fra l'altro vi dico che io l'ho testata anche con delle ruote delle gomme diverse nell'ambito di alcune prove che stiamo facendo e che leggerete vedrete tra qualche settimana ad esempio con delle ruote in carbonio ninefold avalon e con il tubeless pirelli tlr la bici si alleggerisce parecchio ma soprattutto diventa molto più scattante molto più divertente e guadagna ulteriormente anche in guidabilità e in comfort quindi volendo chi vuole qualcosa in termini di prestazione ancora in più visto che il prezzo di partenza non è così alto può fare un investimento neanche esagerato su ruote e gomme concludiamo come al solito con una valutazione super sintetica di questa bici che a mio avviso offre molto di più rispetto a quello che costa garantisce veramente un ottimo bilanciamento un ottimo equilibrio fra prestazioni comfort e guidabilità e quindi può risultare un prodotto ideale sia per chi si avvicina per la prima volta alla bici da corsa ma vuole qualcosa che sia già un po più di una bici entry level ma anche per chi cerca invece un prodotto pronto gara diciamo però senza spendere cifre esagerate ragionando sin da subito magari sul cambio sull'upgrade di ruote gomme oppure immaginando questo upgrade in un momento successivo come dicevo senza necessariamente andare su ruote super costose facendo delle ruote e delle gomme di buona qualità si riesce a alleggerire la bici e renderla molto più performante se volete saperne di più su questa bici sotto il video al solito link trovate il test completo con le nostre votazioni se non l'avete ancora fatto come sempre iscrivetevi al nostro canale bici da strada.it e seguiteci su tutti gli altri canali alla prossima grazie a tutti